Ciao ragazzi, oggi vi presentiamo un bellissimo scooter utilizzabile prettamente in città, stiamo parlando del Liberty 125, un bellissimo motorino, 125 cm3, utilizzabile con la patente B, quindi quella della macchina, tagliandato e gommato pronto a partire. Quattro tempi, quindi bassissimi consumi, ideale per chi vuole muoversi in totale libertà spendendo davvero poco. Consumi ridotti, ruote alte che gli permettono una grande stabilità anche sui terreni accidentati e soprattutto conservato da un unico proprietario, insomma sicuramente un bel mezzo per iniziare. Se avete ulteriori informazioni su questo scooter ci trovate a Carono Pertosella in via Bensitz 800 o in alternativa sul nostro sito internet Giudici Moto. Giudici Moto, realizza il tuo sogno. Scopri la tua prossima moto nella vasta esposizione di usato selezionato e garantito come nuovo. Fatti consigliare e acquista in totale sicurezza. Vuoi vendere la tua moto usata? Richiedi una valutazione. Ti aspettiamo a Carono Pertosella in via Bensitz 800 e su giudicimoto.it